Luca Albertini, abbiamo appena concluso la dodicesima giornata di andata valida per il girone di andata, appunto come stavo dicendo. Siamo al quinto gol, abbiamo vinto 1-0, un primo tempo diciamo giocato bene, un secondo tempo un po' sofferto per il San Colombano, sei d'accordo? Sì, infatti quella è la nota negativa un po' di oggi, che avremmo dovuto ottenere la stessa intensità che avevamo nel primo tempo. C'è da dire che loro sono una bella squadra, secondo me non faranno neanche tanta fatica a salvarsi. Poi fisicamente sono tutti fisicati, ci hanno messo in difficoltà, però è anche vero che non abbiamo sbagliato tanti gol. Una partita avremmo potuto fare benissimo 3-4 gol, però l'importante è portare a casa i tre punti che ci portano lassù. Abbiamo 19 punti, l'anno scorso abbiamo girato 15 a metà, quindi questo è fondamentale. Siamo sempre più contenti ogni domenica praticamente. Capitano, tu ogni domenica fino alle ultime 5 partite la butti dentro e ci rendi felici, e quindi immagino che anche per oggi la tua felicità di aver fatto nuovamente i gol, un gol tra l'altro importante. Insomma, quando fai i gol e porti a casa i tre punti, finisci 1-0. Abbiamo un po' sofferto fino all'ultimo minuto oggi. Se no non ci sarebbe... L'arbitro ci sei messo fischiando la fine dopo quasi... Ha finito 53 esi. Ma sì, 7 minuti di recupero ha fatto invece che 5 quelli che hai dato. Però siamo contenti, siamo contenti assolutamente. Adesso andiamo avanti così, adesso domenica abbiamo una partita difficilissima, in casa di quella che ci precede, penso. L'Unio Cassano. Sarà un bel banco di prova. Ne abbiamo tra l'altro due fuori casa, ma io dico sempre una cosa, il San Colombano soffre quasi più la partita in casa che la trasferta. Sente il pubblico. Sì, diciamo che comunque San Colombano è una piazza dove esige giustamente, per il nome che ha esige, e noi dobbiamo ricompensarla sì. Ti lascio godere la vittoria di oggi, grazie capitano, buona domenica, ciao. Ciao, buona domenica.